Una vita, trame spagnole, un ritorno shock Le anticipazioni ci rivelano che nell'episodio spagnolo numero 699 è tornata ad Acacias 38 una vecchia conoscenza. Ben ritrovati con un nuovissimo appuntamento dedicato alla popolare cancelletto telenovela iberica Una vita, video, scritta da Aurora Guerra, e trasmessa sulla rete Ammiraglia Mediaset dal 22 giugno 2015. Purtroppo abbiamo una brutta notizia, perché negli episodi spagnoli recenti è ritornata ad Acacias 38 una persona che ha procurato tanta sofferenza a Celia, nei paragrafi successivi scoprirete di chi si tratta. La partenza di Huertas. La partenza di Huertas. Purtroppo la Alvarez Hermoso non riuscirà a sbarazzarsi facilmente della sua rivale in amore, dato che la Lopez dopo essere stata licenziata, avrà una discussione molto accesa con la sua ex datrice di lavoro. Per fortuna vi possiamo comunicare che la stuta cameriera dopo aver cercato in vano un altro lavoro, scapperà dal quartiere spagnolo, con la speranza di riuscire a trovare la fortuna altrove, e soprattutto per dimenticare Felipe, purtroppo questultimo dopo la partenza della Lopez, non riuscirà a recuperare i rapporti con la moglie, dato che sarà costretto ad annullare il loro matrimonio per ordine della suocera Consuelo. Il timore di Celia. Presto i telespettatori assisteranno alluscita di scena di Huertas, ma vi anticipiamo che negli episodi iberici della fine di gennaio 2018, i due coniugi Alvarez Hermoso hanno deciso di darsi una seconda possibilità. Purtroppo come vi abbiamo detto nella parte iniziale di questo articolo, nell'episodio spagnolo numero 699, c'è stato un avvenimento scioccante, in particolare durante la festa di fidanzamento di Blanca e Diego, si è presentata all'improvviso l'ex dipendente dei Palacios, che in passato aveva rovinato il matrimonio di Felipe e Celia. Purtroppo Huertas e Lopez ha lasciato senza parole tutti i presenti all'evento, perché gli ha comunicato di essere una rappresentante sindacale, Celia dopo aver ascoltato le parole della sua rivale, ha iniziato a temere di poter perdere di nuovo il coniuge. Se volete leggere ulteriori spoiler, video, su questa vicenda, e soprattutto sapere se Huertas porterà nuovamente scompiglio tra Felipe e Celia, vi invitiamo a non perdere i prossimi aggiornamenti. Cancelletto Anticipazioni TV Cancelletto Una vita.